buongiorno a tutti e benvenuti io vi inizio la nostra conferenza di vigilia come sempre vi chiedo di iniziare con una domanda e vedremo se rimane tempo per farne altre grazie buongiorno Ministro Enrico Zambrano di Juventus TV le chiedo nella scala di importanza delle partite giocate fino a questo momento in questa stagione della sua squadra la gara di domani di Bergamo dove la colloca? domani è uno scontro diretto per il quarto posto quindi è una partita molto importante non decisiva perché comunque dopo domani mancano tante altre però direi è un bel passaggio sarà una partita difficile comunque perché l'Atalanta in questi anni ha dimostrato di stare di aver conquistato un posto per lottare nelle prime quattro posizioni tra l'altro se lo sbaglio sono due o tre anni che gioca la Champions e quindi è una partita difficile l'Atalanta è una scuola fisica molto arrabbiata perché comunque viene da un'eliminazione della Coppa Italia e quindi ci vuole una partita di grande attenzione una partita fisica una partita tecnica ci vuole una prestazione di alto livello per poter portare a casa un risultato importante Buongiorno Giovanni Guardalasca e Sporti lo voglio chiedere del centrocampo appena detto serve una partita fisica una partita tecnica in questo caso si fa preferire Artur o Locatelli nel ruolo di centrale? Non è che Artur o Locatelli proprio non so le condizioni di quelli che hanno giocato giovedì veniamo da due partite diciamo pesanti fisicamente e mentalmente perché comunque con l'arrivo di Vlauvi c'è Zaccaria c'è stato entusiasmo c'è entusiasmo e quindi c'è stato un dispendio di energie importante quindi ora voglio vedere oggi la squadra perché oggi è l'unico allenamento che mi permette di scegliere una cosa su cui sono sereno è il fatto che comunque anche l'altro giorno i cambi ci hanno dato molto e deve essere così da qui alla fine del campionato perché comunque abbiamo una partita ogni tre giorni fortunatamente e quindi bisogna essere bravi a stare tutti bene e soprattutto quando veniamo chiamati quando vengono chiamati in causa bisogna fare bene soprattutto per aiutare i compagni questo è stato giovedì è stata una partita con il Verona e questa è una cosa che mi rende sereno soprattutto per indipendentemente da chi parte titolare Buongiorno Fabiana della Valle Gazzetta dello Sport hai parlato dell'entusiasmo che hanno portato i nuovi i Vlaovic però ovviamente come dici sempre tu c'è ancora da migliorare dove credi che la squadra abbia più margini di crescita tecnicamente tatticamente sotto il profilo di gioco dove pensi che possa migliorare ancora di più? A migliorare? Cioè bisogna migliorare singolarmente bisogna migliorare nelle scelte dell'ultimo passaggio anche l'altro giorno corso a suolo due o tre volte abbiamo commesso degli errori di precisione che non si devono commettere poi l'altro giorno è stata una partita un po' particolare perché dopo il vantaggio siamo usciti alla partita come abbiamo già parlato dopo la stessa quindi domani sarà una partita completamente diversa abbiamo una squadra diciamo di ragazzi che hanno qualità qualcuno con più qualcuno con meno esperienza però tutti fino a che giocano a calcio tutti possono migliorare e devono migliorare lavoriamo tutti i giorni per far questo Buongiorno Antonino Milone tutto sport quando si gioca contro l'Atalanta spesso si fa ricorso al paragone famoso di Guardiola se è come se si andasse dal dentista perché l'Atalanta ti fa male volevo chiederti se tu cominci ad avere la percezione che i rapporti di forza si stiano non dico ribaltando ma cambiando visto anche il momento vista anche la stagione e se magari pensi che da domani il ruolo del dentista lo recitate voi il calcio io dico che c'è sempre molto equilibrio perché comunque noi veniamo da un periodo buono non da ora ma da 12 partite 13 partite quello che è quindi siccome il calcio è una roba l'equilibrio è proprio sottile quindi bisogna essere bravi a portare sempre le situazioni favorevoli dalla nostra parte gli episodi dalla nostra parte per far questo bisogna essere concentrati su quello che dobbiamo fare non dobbiamo pensare perché se cominciamo a pensare dopo perdiamo di attenzione su quello che dobbiamo fare quindi su questo bisogna essere molto bravi abbiamo raggiunto una semifinale di Coppa Italia e questo è un bel risultato ora dobbiamo pensare a sistemare il campionato però partita dopo partita perché comunque mancano tante partite c'è equilibrio poi più andiamo avanti e più è difficile vincere le partite perché comunque si assottiglia il tempo a finire la stagione i punti contano molto molto di più e quindi bisognerà essere bravi a farsi trovare pronti quando la palla decisiva è sui piedi sia in fase offensiva che in fase difensiva Salve mister Giorgio Musto di CacciaMercato.it le chiedo se con l'arrivo di Vlaovic non siano migliorate anche le prestazioni di Bale in campo grazie diciamo che l'arrivo di Vlaovic è un giocatore che come caratteristiche mancava a questa squadra e quindi è normale che con un punto di riferimento davanti gli altri ne traggono giocamento però direi tutti direi stanno stiamo lavorando con diciamo anche con un po' di entusiasmo diverso perché comunque la novità porta entusiasmo però ripeto e lo ripeterò fino alla noia non abbiamo fatto niente la normalità della Juventus è quella di vincere le partite e quindi domani abbiamo l'Atalanta bisogna cercare di fare risultato pieno contro una squadra forte una squadra arrabbiata molto arrabbiata e poi penseremo alla partita di venerdì col Torino poi avremo la Champions poi avremo di nuovo il campionato poi avremo la Coppa Italia abbiamo però bisogna pensare una alla volta senza ma fino a questo momento non abbiamo fatto niente non abbiamo conquistato niente la stagione è ancora finita e al momento è la stagione decisiva quindi c'è solamente da fare non c'è da chiacchierare buongiorno Romeo Agressi gol.com io lo chiedo in chiave formazione perché ha detto che devi valutare i suoi ma le chiedo se per caratteristiche dell'Atalanta il tridente da davanti sia schierabile ovvero Morata Vlaovic di Bala grazie ma può essere schierato come non può essere schierato quindi lo valuterò oggi anche perché sono dei giocatori che hanno fatto un po' di partite quindi lo valuteremo però c'è il rientro di Ken comunque che sta bene Bernardeschi non sarà della partita perché comunque ha finito il periodo diciamo riabilitativo ieri ha fatto parzialmente lavoro con la squadra dal lunedì sarà a completa disposizione per la squadra che linea out e gli altri poi sono tutti a disposizione una domanda sull'Atalanta invece una squadra che non avrà il portiere titolare non avrà Zappata che è un po' come dire la bestia nera della Juventus ecco come l'avete studiata e secondo lei oltre alla rabbia oltre come dire alla caratteristica pressione che mette su tutti i giocatori quale sarà il punto di forza dell'Atalanta in cui l'Iventus dovrà essere brava come dire a sminare quel problema grazie il punto di forza dell'Atalanta ha tanti punti di forza noi però bisogna andare sui loro punti deboli e quindi bisogna fare una partita ripeto molto buona sotto l'aspetto tecnico oltre che fisico perché comunque domani sera sarà una partita bella combattuta e quindi bisogna farsi trovare pronti bisogna avere sicuramente un bel approccio Buongiorno Timoti Ormezzano per il Corriere Torino tornando sul discorso dell'Atalanta che è come andare dal dentista volevo chiederle negli ultimi quattro incroci tra lei e Gasperini due vittorie per Gasperini e due pareggi ecco è un po' la squadra e il collega che dà più fastidio e perché grazie speriamo che domani tocchi la vittoria allora due vittorie due pareggi magari domani toccherà la vittoria quindi due sconfitte per me due pareggi magari domani toccherà la vittoria per quanto riguarda Gasperini credo che abbia fatto non c'è bisogno che lo dica e glielo dica ha fatto un lavoro straordinario all'Atalanta perché comunque sono anni che l'Atalanta è nelle prime posizioni del campionato ha fatto le grandi ha sfiorato una finale e quindi credo che tutto il merito insieme alla società che comunque alla fine alla base di ogni cosa ha fatto un lavoro straordinario perché comunque direi ha tirato fuori dai suoi giocatori da quelli che ha avuto a disposizione da tutta la squadra il massimo che potesse tirare fuori e quindi solamente a fare i complimenti però domani sera per noi è una partita molto importante Antonio Paolino Radio Bianconera volevo chiederle che tipo di garanzie potrebbe dare in questa partita un centrocampo a due con Locatelli e Zaccaria cioè come cambierebbe la squadra e poi le chiedo se una corsa non solo sull'Atalanta è fattibile a livello mentale per la Juventus cioè cambia qualcosa tra arrivare centrare il quarto posto o anche il terzo o qualcosa di più più avanti senza pensare allo scudetto eventualmente grazie in questo momento siccome già fa un passetto alla volta bisogna tenere i piedi ben piantati in terra perché volare è difficile se no si casca per terra e ci facciamo del male ora abbiamo l'Atalanta quindi pensiamo all'Atalanta e poi penseremo altro però tanto noi l'obiettivo è quello di entrare nel quarto posto poi vediamo cosa siamo capaci di fare però tanto è inutile pensare che le tre davanti hanno troppo vantaggio lo ripeto e lo ridico fino alla noia poi divento noioso è vero che in vecchio e poi magari mi sono anche un po' rincoglionito però quando potenzialmente l'Inter ha 11 punti di vantaggio è difficile per una squadra che è più facile per il Napoli o per o per il Milan più molto 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 più difficile per noi anche perché se non tre ce ne fosse stata una ma tre è difficile molto difficile quindi dobbiamo pensare all'Atalanta e il centro campo a due vediamo è una soluzione che magari o domani o durante durante le prossime partite la possiamo attuare ma dipende dalla disponibilità dei giocatori in questo momento ho anche Bernardeschi fuori quindi è più difficile buongiorno la mia domanda è di natura tattica quale può essere l'evoluzione di questa squadra perché lei spesso ha parlato di conciliazione tra appunto il reparto offensivo e anche l'equilibrio di fondo da trovare un giocatore come Zaccaria in questo senso è un giocatore chiave grazie è un giocatore che è bravo a giocare a calcio anche l'altra sera mi è piaciuto perché comunque è un giocatore pulito nel giocare ha un bel passaggio ragazzo intelligente non era facile arrivare e inserirsi subito così quindi ha trovato anche una squadra pronta perché comunque la squadra veniva da dei buoni risultati stavamo crescendo stiamo anche bene fisicamente abbiamo avuto la possibilità di lavorare sia dopo le feste che anche nei pezzetti di finestra di questi periodi e quindi direi che ci sono tutte le possibilità per poter far bene ecco e quindi sono sono contento ma questo lo ripeto non deve esaltare nessuno ma deve essere solo la normalità che ci deve stare alla Juventus quella di vincere una partita e metterla da una parte perché poi la partita dopo restiamo di nuovo sotto osservazione e che se non la vinci qui già se la pareggi non va bene va bene quando l'abbiamo perso all'inizio abbiamo capito che forse è meglio vincere qualche partita in più buongiorno un problema c'è un problema c'è un problema nel senso che qualcuno deve stare fuori è normale però in questo momento siccome nell'arco della stagione ci sono momenti in cui ti mancano un po' di giocatori dei momenti in cui ce l'hai tutti in cui te ne manca un po' di meno in questo momento a parte Chiellini Federico che sta facendo la rieducazione e sta andando bene quindi sono contento poi lo vedo molto più serenora Bernardeschi che rientra c'è tutto a disposizione e soprattutto sono tutti i giocatori che stanno bene quindi si alza il livello della squadra si alza il livello degli allenamenti e quindi di conseguenza si dovrebbe alzare anche il livello delle prestazioni della domenica o del sabato quando giochiamo o del mercoledì l'ultima buongiorno mister Filippo consigliere quello sport lei ha detto che non è decisiva ma vista la classifica può essere considerata quella di domani uno spartiacque della vostra stagione grazie spartiacque no perché in questo momento l'Atalanta ha una partita in meno quindi potenzialmente ha più uno da noi quindi ormai secondo me siamo arrivati a essere vicini che domani la partita non è decisiva sia per noi che per loro è una partita importante bella da giocare però non è decisiva bene grazie buona giornata on grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti